Sono Rocco Braz nel cespuglio, nel cespuglio, nel cespuglio Oh no Ryze, ti prego, bravo Ryze Ma che ti sei ridotto, eri il mio striame, preferito mi fai ste cose, mi sorprendi già Grazie Laura, eh a me mi hanno buttato giù Ma vedi questa modalità Grazie Lory È proprio identico a Gang Beast Oh, l'ho kickato uno a caso No, no, grazie Tommaso No, 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 però, però, però Oh, eh, uccidiamo Miles Seri, eh Che è uno snappone del cazzo Tua mamma, Miles Seri, tua mamma Eh, non lo diciamo, non lo diciamo a dire Axi del Erone Hank, sei ancora in vita? Sì Ti vedo, ti vedo Ryze, Hank, ecco, vediamo Hank Hank, c'è una cosa che fa ghiacciare il pavimento Sì, loser pop C'è una cosa Che cazzo fai, Ryze? Ryze è impazzito È impazzito, Ryze Occhio al ghiaccio, occhio alla macchina del ghiaccio, bro Ah, no, è il livello, è il livello Oh, mi hai ritrizzato col taser quello, ma guarda te Hank, non cadere Eh, mi hai ritrizzato Oh, Ryze è volato Ah, no, no, è bravo Bro, bro, guarda qua, guarda qua, guarda qua Uh! Mamma mia, che pro player che sono Tonker, hai finito il re No, mi sono suicidato Vabbè, ovunque pro player Reddits è ancora vicolo Sì Oh, è ripartito il round No, 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 bro, bro, bro Hank, hai, hai Ho buttato giù Ah, eri tu, cazzo Scusami, credo fosse Michele Perché ha il gatto pure lui, bro Scusami, scusami, te lo giuro Vai, vai Vai, vai Vai, Hank Occhio che quello ti fa diventare ghiaccio, eh No, 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 non rinvigorisciti Vabbè, sono morto con... Eh, il coreano ha vinto Ma... E Michele è forte Vai, let's go, chat faster, chat faster Chat faster Chi è forte Beh, hai tirato un cartone Chi è forte? Michele, Michele Vai, Andre, lasciali fare, lasciali fare Oh, c'è il lollipops Devo rifare il tutorial con Joyce Comunque è molto più facile Oh, ti sei... Sono da... Drogato, ti sei drogato, bro C'è il taser, c'è il taser, c'è il taser, c'è il taser Vabbè Allora, se stiamo... Se questo è il livello C'è il taser, vai Ryze Ah no, anche Ryze è morto Sono tutti... Vabbè, dobbiamo imparare a giocare Questo secondo me è fatto con Simo, con Luis e Vivente Sempre che se lo possono scaricare Eh, Simo sì Come si entra? Non ho idea come è entrato Ryze Non so se l'ha invitato Hank oppure no L'ho invitato io Non so se la stanza è bloccata Non credo Vabbè, voi giudatela 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 lobby La cosa più vivente è buttare le armi fuori dall'aereo, eh Oh, è tutto il ghiaccio Aia, F Rip Oh, non è scivolata giù? Eh, si scivola Ha comunque vinto Eh, hanno tutti la vittaglia tra il meglio e Ryze Allora, io direi che mi... io mi faccio i cazzi miei, eh Faccio i cazzi miei Grazie, cremaster Oh, no, no, Ryze Aiutami Provo, eh Con chi ce l'hai, eh Con chi ti credi di esserci? Chi ti credi di... Vai, vai Oh, colpa al cuore Ti tengo su, ti tengo su, Ryze Ti tengo su, Ryze Ti tengo su, bro, non combattere con me Ryze, io cane No, 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 bro No, bro, no, bro Troppo bro Troppo bro Troppo bro Troppo bro Troppo bro Ma che cazzo faccio a non vincerne una? Cosa cazzo faccio a non vincerne anche una? Caduto 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 Pepega è caduto un'altra volta Pepega oh quello è pazzo baby for rivals Pepega dove è X-Rise? è ancora in Lizza te sei caduto Enk? no Pace 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 Rise Rise è morto Rise con la giocata ma che cazzo cosa fa? fa sesso ok con calma brother con calma bro grazie molosso no 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 ok ok con calma bro con calma bro oh no 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 bro no bro ma comunque una volta va a scatti eh si ma va a scatti a tutti no no bro no bro ma sei un pazzo che bulli che bulli siamo tutti caduti? però ma è difficile si devo riparare il tutorial non so verità sti cazzo mi hanno bullizzato ma poi ci sono delle armi che sono molto più forti delle altre ora questo questo se lo ghiaccia bro ha vinto guarda tra i ruidi di gatti il terzo code vai bravo guarda bro cioè troppo bro è troppo forte quest'arma guardalo guardalo cioè come fai a a perdere un'arma del genio devo prendermi quest'arma devo prendermi quest'arma oh bravo 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 Rise no non è Rise ora scommettete che è il cazzo oh ma poi ci si può aggrappare anche si 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 ma sardi guardate Cesare quel che è di Cesare dove oh Rise oh via 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 alleiamoci con chi deve vincere alleiamoci contro il cinese no oh scusami 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 che dovevo questo Michele no no aiutami lascelo stare ok ok lascelo stare oh no no troppo bro troppo bro oh oh grazie grazie Cid troppo bro non fare il poliziotto il poliziotto quello UK no troppo bro addio ragazzi è stato un piacere giocare con voi troppo bro troppo bro oh Hank troppo bro ti tengo ti tengo ti tengo ti tengo in alto ti rendi in alto bro stai calmo no no bro 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 ok ok eh c'è 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 bro esce c'è il ghiaccio ti ho poi ti ho poi ma per te ma io tiro i punti non li tira hai vinto ma che ho vinto hai vinto mister del cazzo non sono scarso ragazzi devo solo imparare a giocare bravo Hank fai il finto motto fai il finto non giocatore oh oh bravissimo Hank occhio no ti salvo io bravissimi bravissimi tutti i trabi via via oh ma guarda il stronzo che si è suicidato tirandomi giù prendo la supercarica no 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 via 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 dal signore con la supercarica ok vai vai antre c'è per noi eh ma questo ti è proprio autoplayato bro è dopato è dopato sai tasti sai tasti un bel play bella play ha fatto ah sei diventato un po' robotico eh noi siamo oh che cazzo fa è perpezzati a tutti ma l'ha neanche vinto non so come faccio a essere lì dai dai facciamo un'altra e c'è solo questa mappa di last stand oh oh porco dia un sottomarino inizieranno ad arrivare le onde immagino vieni qua vieni qua quello lì è andato a prendersi l'arma sotto ah no non è un'arma oh oh un cazzo di razzo è pazzo sto coniglio è pazzo anche eh sì buonanotte bro se noi ci abbiamo un uno stall alla messicana eh oh no oddio ma questo è impazzito oh oh merda l'acqua ma perché ma ce l'ho fatta salire ce l'ho fatta salire ehi Hank fermati buttiamo giù quello eh non tanto non riesce a salire guarda sì 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 che riesce a salire ragazzi che giocata gira Hank oh ah ho vinto un agnellino o un agnellino senti eravamo arrivati a te cosa dovevo far guardarti bro ma me lo dicevi quando iniziavi a giocare dai un po' è possibile l'ho già perso per colpo di un coreano Andre che cazzo fai però posso ancora salire basta giocare a sti giochi per diversamente eterosessuali chiamano un escorto a domicilio cos'è sta merda oh io non gli ho detto di far quella cosa lì non gli ho mai detto di far quella cosa lì non gli ho mai detto è bancato il gioco ma non fare il furbetto del quartierino che già sai e già sai guarda qua guarda che furbetto oh no è un ramachi guarda il furbetto del quartierino guardate il furbetto del quartierino grazie c'è il su devo vincere il primo game ah era la propulsione del hank come funziona la propulsione del razzo grazie c'è un razzo e ti spinge top voglione volevi buttare giù a me volevi buttare giù a me hank sono di stronzo oh stanno affogando si va bene hank hank sbrigati sbrigati dai un po' di calci nel frattempo dov'è Ryze? Ryze è ancora vivo io ti go per Ryze no c'è un'altra possibilità per salvarsi vai 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 accrappati bravo oddio grazie guardate questo guardate questo guardate questo mamma ho cambiato zona ho cambiato zona non si è accorto no Ryze no Ryze guarda ma ha già stirato si è appena succidato ecco lo sta tornando si 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 adesso sono molto giù un ramanchi dai sai che ha perso oh ma minchia ma coglioni ma coglioni no ma una macchina di merda ma muori non mi rompe le palle grazie fede oddio eccomi risorto no sono finito nei motori trucidato nei motori risorto risorto sembra che sto inchiappettando qualcosa vai 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 bro vai bro porco di ass porco di ass arrampicati che cazzo fa questo eh c'è il capitano schettino oh bello spingilo proprio spingilo 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 ma senza buttarti tu beh deve morire deve morire con me oh nice e adesso no no è stato vincere ora ma no no bro sono 15 un saluto oh grazie grazie per i 4 mesi ho sempre il blu sempre il blu sempre il blu è l'obiettivo ok madonna mi ha dropkick occhio occhio bro unisciti grazie andrea ok 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 bro la visuale è un po' randomica eh non è delle migliori oh anche sono io sono io rise rise non morire rise no rise non ci morire no 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 bro no 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 porco di ass ok 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 porco di ass no 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 ok va bene l'hai voluto tu no no eh ma il blu sta già sopra ed è pronto a fare headbutt è un bastardo di merda lo odio dai guardalo guardalo chi fammi salire dai ho perso ma minch è un bastardo quello oh dobbiamo eliminarlo subito andrea snappo del cazzo no guarda che vince lui vince lui diaz fa il capitano porco diaz guardalo guardalo oh gli ho tirato un cartone si si vinci tu vinci tu hippo hippopino vai hippopino oh c'è rai si godo cazzo godo stronzo 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 di merda godo ha vinto no sono due ma c'è ancora un ramachi si ma con la fine ma un ramachi sta morendo grazie Ivan tvm ciao andrea volevo solo subarmi non me ne faccio un cazzo con i tuoi ringraziamenti dai scherzo un saluto un saluto a tutti i modificatori in via pacolias ragazzi pacolias non riesco a vincere il vostro gamer preferito non riesce a fare neanche una partita decente oh tu me lo tui cazzo grazie simone troppo bro oh c'è il razzo c'è il razzo c'è il razzo c'è il razzo fermati vai hop hop là fermi fermi non sono un pippone non sono un pippone dai ok 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 sono il capitano sono il capitano sono il capitano eh sono il capitano grazie maetai grazie me lo ho bentornato sono il capitano lo porto lo porto con me quello blu eh lo porto alla morte con me ragazzi lo porto a largo lo porto a largo godo stronzo bastardo godo vai vieni oh vi ho portato quello lì blu eh tu sei il capitano ah ci siamo da auto 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 bro adesso devi vincere io mi sono suicidato ok ok sono ancora in vita eh grazie maio vince lui perché tu non stai respirando sei sicuro che vinca lui però no non so ok bravo bravo così così va bene grazie gallo let's go hai intato hai intato hai intato hai vinto tu suuuu easy clap boys suuu grazie orla oh vincere qui ti letta eh sì dai vinciamolo cosa vuoi fare tu amico cosa vuoi fare amico amico fritz è una macchia il nostro amico cosa vuoi fare bro vado adesso sto tenendo il blu sto tenendo il blu oh il blu è stato eliminato godo cazzo non si è appena buttato con un drop kick mancato bro 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 troppo bro troppo bro troppo bro vai yank c'è il capitano c'è Raj c'è Raj c'è Raj che ti difende c'è Raj che ti difende ah prima ho vinto non è che è scarso non avete mai giocato a sto gioco guarda questo col braccio di fuori no Uramaki però è Uramaki Uramaki guarda che scala 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 ancora non sono un game player è letteralmente un gioco che abbiamo iniziato a giocarci da 20 minuti 40 minuti bro non scalare non scalare aggrappati esatto no ecco bravo yank ecco la trovata yank non ti impalare però bravo yank boom bro la trovata aia no la piston occhio a Razzo occhio a Razzo Andre ok ok grazie fai va porco diers grazie mille che hai quattro mesi go ok eccomi no 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 bro e io non posso star qua oh dio santo dai svegliati gattino bravo bravo così 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 bravo bravissimo bravissimo in alta sinistra c'è la stamina si si ragazzi occhio al blu eh è qua è qua da me sta salendo su sta salendo su non riesco a salire broski ok 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 guarda il blu guarda il blu da poppa da poppa da poppa da poppa oh ah mi molli bravo anche no no il blu il blu non ti devi far vincere che figlio puttana dio spastardo no no ma che cazzo fa ha vinto il blu ma dio ma che cazzo copro ma questo mi ha portato nella tomba con lui il blu non deve vincere hai capito oh stai calmo anche che neanche tu devi vincere devo vincere io non mi interessa non mi interessa non mi interessa questo bastardo basta no 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 mi sta ammazzando eh eh vedi che viene a rovinare il gameplay altrui ma mi mollate ok immagina essere incansato per un brunco di mio burro guarda eh mi viene a tirare le testate apposta mi viene a tirare le testate apposta ma fatti una vita bastardo bastardo grazie per le scarpe se no oh merda porco dia oh non ho più stamina non avevo più stamina non avevo più stamina vabbè è andata così fratellito vabbè 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 è andata così è andata così poi c'è anche un'altra mappa no non è brutta il sottomarino è super figa perché ci sono modi diversi per concludere le partite e questa è la figata vai anche vai anche oh una bomba anche 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 vai alla alla tua sinistra sotto sotto ok la 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 di avanti c'è una bomba aspetta aspetta devo salire oh come si lanciano i lunchak f oh non mi fa salire ah si posso salire anche con i lunchak oh oh ehi sali anche mi fai la stamina porco dia riprendi la stamina non mi fa salire con i lunchak addio eh è che è molto affogato no no per favore per favore nessuno può sconfiggere lo scoglietto bruttano io perché ho preso i lunchak di merda maledetto anche è morto affogato ragazzi vincerò il blu per compro player di merda ecco madonna madonna la mia giornata è rovinata come si può far vincere questo stronzo maledetto anche tu che sei secondo spodesta allora nelle schermate finali spodesta no io vado in cam eccomi ciao ciao a tutti ciao eccomi ciao seguitemi sui tubo via eccomi ok vai hanno ucciso Rocco Braz chi sia stato non si sa